Grazie, io chiedo a Rosanna di fermarsi un altro secondo con noi perché nell'introcurre il secondo premio c'è una bellissima novità e chiedo a Rosanna di annunciare a tutti noi. Sì, grazie, molto molto brevemente, diciamo che questa serata serve anche per lanciare un'idea che porteremo avanti con la fondazione, sempre accanto all'area metropolitana di Reggio Calabria, per la promozione di corsi di studio rivolte agli studenti di tutte le scuole, quindi elementari, medie e superiori, ma anche agli studenti universitari, per raccontare la figura del 12 Antonio Scobilliti, l'uomo, il magistrato, il professionista, ma anche e soprattutto il figlio di Calabria, quindi attraverso le sue frasi, attraverso i libri che ne raccontano l'esempio, che dicendo vogliamo rendere la memoria di Antonio Scobilliti patrimonio veramente non solo della Regione Calabria, ma di tutti i ragazzi del Paese, quindi ancora facendo seguito anche a quanto ho fatto dal CSL, che abbiamo eseguitato gli atti sulla carriera di mio padre, cosa che avviene proprio oggi, ecco cerchiamo di dare seguito rendendo Antonio Scobilliti veramente patrimonio di questo nostro Paese, quindi da adesso in poi questo sarà un altro obiettivo che porteremo avanti con la fondazione Scobilliti, lo dico soprattutto agli insegnanti, ai prezzi più presenti, insomma, attenzione perché vi coinvolgeremo a breve. Grazie per presentare la sezione del premio istruzione, formazione ed educazione all'ANPI, l'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola. Mentre do lettura della motivazione del premio, chiedo cortesemente al Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità, ma guarda con i doi dei vicini assi, premia Cettina Nicolosi, che è la Presidente del Conservatorio Cilea. Quindi premio istruzione, formazione ed educazione all'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola per la decisa azione sindacale di tutela delle categorie rappresentate, per il profondo impegno culturale che punta a promuovere innovazione e miglioramento nelle politiche educative e socio-economiche del sistema paese con uno sguardo costante alla dimensione europea. La Fondazione Antonino Scobilliti conferisce il premio per l'attività svolta anche a livello regionale nei campi dell'innovazione, della diffusione della cultura manageriale ed economico-finanziaria, della tutela dei beni culturali ed ambientali. Prego. Grazie mille. Vi chiedo di rimanere un attimo con me per una battuta. Questa collaborazione abbiamo detto tra la Fondazione Antonino Scobilliti e il Conservatorio nasce non solo per la promozione della cultura ma per la promozione del bello. Questa sinergia è nata spontaneamente? Intanto un saluto a tutti i presenti. Io sono qui insieme al direttore del Conservatorio a rappresentare la vicinanza della nostra istituzione ma non solo, soprattutto anche la mia personale, trattandosi appunto di Rosanna, una cara amica, tra l'altro abbiamo condiviso dei momenti bellissimi, proprio in questa sinergia che c'è con la musica, perché noi ci esprimiamo con l'arte che ci è più congeniale e con lei abbiamo ricordato in varie occasioni la figura di questo giudice, del giudice Scobilliti, anche qualche anno fa a Pilla San Giovanni dove siamo stati ospiti con i nostri ragazzi, con i nostri musicisti e questa sera appunto siamo qui anche con una rappresentanza del nostro conservatorio a commemorare questa figura. Mi fa piacere che questi premi che state consegnando sono premi meritatissimi tra l'altro penso che siano anche un ulteriore stimolo per continuare su questa strada e dare l'esempio anche ai nostri giovani, soprattutto trattandosi anche della vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, quindi chi meglio di lei rappresenta il mondo della scuola quindi ancora un complimento a lei e grazie per aver invitato il nostro conservatorio speriamo di collaborare anche in futuro con i nostri ragazzi e con la nostra arte che è un'arte nobile, qual è appunto la musica, grazie. Grazie a voi per la presenza, è un ruolo importantissimo perché lo diceva prima Rosanna Scobilli che la legalità ha passata da un'attività. Siamo veramente onorati di ricevere questo premio da una fondazione così importante, una fondazione che opera per la discussione della cultura della legalità e la INP si muove anche in questa direzione. La INP raggruppa dirigenti e anche docenti in un'ottica di leadership diffusa e condivisa ed ha come obiettivo principale quella che è la crescita dell'occurrente. volevo un po' fare una veloce di questione, pensiamo a quante ore al giorno i giovani trascorrono in aula, pensiamo a quanto tempo nell'arco della nostra vita stiamo in un'aula scolastica. ebbene, se noi pensiamo questo, capiamo il peso che la scuola ha nel progresso di un paese. Gli studenti di oggi sono i cittadini di domani, quindi il ruolo che io ho è solo di reggio, quindi per me è veramente un onore avere un ruolo in un contesto nazionale, perché porto avanti anche quelle che sono le problematiche che il nostro territorio vive all'interno del sistema acolattico. Grazie. Grazie a voi. Andiamo a finire un nuovo perché è l'azienda della cerimonia, il conservatorio ci offrirà un momento musicale.